Allora devo dire io intervengo qui quale difensore di Cresciullo unitamente al professore Castiello per smentire queste incredibili notizie apparse sulla città. Ora io capisco che i giornali devono vendere i giornali, però devo dire che innanzitutto il figlio di Cresciullo non è stato assunto da nessuna parte. Tanto è vero che lui è l'amministratore del bar della piazza, quindi è un lavoratore autonomo. Il che smentisce che sia stato assunto e mi risulta che anche il figlio di Edmondo Lava si è versi nella stessa situazione. La procura per la verità non è che ha contestato un delitto di truffa, tentata o aggravata. La procura contesta l'abuso di ufficio, soprattutto la violazione dell'obbligo di astenzione. Ora l'abuso di ufficio per potersi integrare richiede che ci sia stato un vantaggio o un danno da parte di qualcuno. Il che io credo che non sia da quello che mi pare di capire, perché io sono stato nominato ieri, abbiamo ordinato le copie del processo e ce le daranno venerdì. Quindi con tutta la prudenza del caso non avendo ancora letto le carte. sta di fatto che il figlio di Cresciullo e il figlio di Edmondo Lava non sono stati assunti da nessuna parte, per cui questo vantaggio o danno non credo che possa sussistere. Attendiamo di leggerci le carte e poi vedremo la strategia difensiva da adottare. Quindi sono completamente strani i fatti secondo me. Strani i fatti ancora io non posso. Io quello che posso dire è che non sono stati assunti da nessuna parte, soprattutto per il figlio del mio assistito, è l'amministratore del bar La Piazza, per cui è un lavoratore autonomo, il che esclude che possa essere dipendente da qualche parte. Perché il giornale della città dice che sarebbero stati assunti con favoritismi, presso la comunità mondacosa, che io posso escludere sin da ora, perché non è vero.